Ciao a tutti, come andranno il mio nuovo lavoro e la mia nuova frequentazione? Questa è una domanda fatta da una follower che frequenta una persona, diciamo, anche per motivi di lavoro, cioè con la quale un collega fondamentalmente. Quindi c'è questa unione tra nuova frequentazione e nuovo lavoro, insomma. Allora, prima di rispondere però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco, e iscriviti al mio nuovo canale. Felicità e benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Bene, quindi facciamo le carte, miscogliamo. Dopodiché tagliamo, giriamo, e il numero che mi viene spontaneo tra 1 e 10 e il numero 3. Tra 1 e 9. 1, 2 e 3. Il Papa. Figura molto stabile, figura spirituale stabile, di stabilità, quindi comunque un segno di stabilità. Quindi partiamo da una base solida. 1, 2 e 3. La giustizia al contrario vuol dire che c'è qualche situazione collegata alla giustizia, qualche giudizio, diciamo, legato a qualche situazione istituzionale, che probabilmente non andrà per il verso giusto. 1, 2. L'imperatrice. L'imperatrice è la materialità. Quindi ci potrebbe essere questa nuova relazione, questo è più legato alla relazione, una donna materialista, che in qualche modo si intromette all'interno della coppia. 2 e 3. E questa donna lavora nel torbido. Vediamo quali sono le potenzialità. 1, 2 e 3. Il mondo è una buona carta, peccato che è uscita al contrario, però rappresenta sempre una nascita, il mondo è sempre positivo, ma una nascita un po' difficoltosa. Quindi questa nuova relazione ha il seme, diciamo, per creare un'unione, ma ci sarà qualche difficoltà da superare. 1, 2 e 3. Però si possono superare, perché ci saranno delle trasformazioni positive. 1, 2 e 3. Ecco, viene l'imperatore. L'imperatore che, diciamo, dà la stabilità, quindi è una persona, probabilmente il partner, centrato sulla materia, che dà comunque una buona stabilità di coppia. 1, 2 e 3. Cioè, l'appeso, quindi, rappresenta comunque un fastidio. Ci saranno delle situazioni fastidiose, ma questo è ragionato fuori in diverse, con diverse carte. Insomma, il mondo al contrario. Quindi dei fastidi ci saranno per raggiungere comunque il successo. L'imperatore dà più un successo di natura materiale. Vediamo il resoconto finale. 1, 2 e 3. Il matto. Ecco, il matto al contrario è il rischio. Il matto è il rischio. Quindi, diciamo così, che non ci sono grosse rotture, o grosse negatività. Tutto procede, ma non c'è il trionfo, diciamo così. Ci sono sempre delle situazioni in cui stare attenti. Quindi, procedere con attenzione, perché ci sono presenza di antagonisti, che lavorano anche nel torbido, presenza di difficoltà e attenzione soprattutto a non fare le cose istintivamente in modo avventato, perché si rischia di finire giù dal burrone. Però, tutto sommato, le cose potrebbero anche girare. Per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale, Felicità e benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti. Ciao a tutti.